musica 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 ok benvenuti ragazzi io sono il ghesius e io sono alex e oggi riprendiamo con minijar la serie che ha il world border come vedete dopo tre anni si perchè siamo stati qua a aspettare ma che dico tre anni? tre secoli hai cresciuto un milano poi c'erano i poli che avevo capestato si c'erano i poli che erano casgere quindi possiamo farci il nostro pane fa un culo qua lì non vediamo i sei lì ma fa un culo basta che poi coprono in acqua no in acqua no vediamo se non lo frega davvero oh però ho fatto un altro si lo frega complete craft bread expander 48 io lo metto allora abbiamo salvato un po' la zona infatti abbiamo tappato proprio quello abbiamo visto che si può andare di qua di qui e andare di qua è stra bello si è sempre meglio di qui quindi allora per evitare allora anzitutto mi servono la torch mettici un po' per evitare per evitare per evitare per evitare per evitare una bella spalletta bene sta distruggendo qualcosa mettiamo un po' di torcia ragazzi perché non vorrei mai a una gravità c'è scritto che non può scrivere al contrario ma perché è stato solo con le torce ha lasciato 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 le torce ti giuro che torno con la spada di diamante torno con la spada di diamante fanno su anche l'armatura fanno così danno con su l'armatura quei cosetti erano tre contro una torcia fai il potere contro una torcia non mi fido più di tanto non mi fido più di tanto non mi fido più di tanto usare la spada di diamante perché potrei poter entrare malissimo cosa? what? ah perché ok ok tutti caldissimi ma non c'è un po' di legno no 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 eh pare che viene qua gli ammazzi lui ah non viene non vuole ah il cervello eh oddio 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 mentre voglio andare qua la nostra roba io c'erano spawner l'ho già visto ferma tu dove? lì di questi cosi si non ho portato di spawner solo di cose piccoliche non ho portato piccoli non ho portato piccoli stavo che stavo tutto al contrario due secondi che bello se non mi rompe il loco ecco di io lo rompo e chi se ne frega dell'esperienza ci sta ci sta non posso aprire ah perché torta di oh abbiamo trovato la zucca ragazzi i semi i semi di zucca ah bello è già fatto ah qui eh però il legno lo prenderei eh infatti anche gli altri non posso scrivere al contrario bellissimo era collect e raccogliere però però non so se intende di ritrovarla né no vuol dire che lo pianti la raccogliere facciamo così sennò perchè ti è dato che si ok scusate dovrebbe si esatto polimaniaci sessuali non 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 ho paura di quello che potrebbero fare cosa ma neanche le levi degli alberi infatti che è toccato sarebbe stato fantastico tipo se eh eh fosse atterrato al contrario eh eh ah le fance e quello lì hanno un cancelletto oh bravo Ah no, si Non è fance Così Intrappoliamo il cuore E lui c'è fu E lui c'è fu Non riesco a salire Quanto oro c'è qua E' meglio che vuoi farci le cose? No, dovevi trovarla La carota vero Si, dovevi c'è scritto trovare Non craftare, è diverso Facciamo il cancelletto Era mica più Era più Più cosa o più Si Era più C'è giusto Guarda i bastoni Al contrario Bastoni Ok Almeno non posso Questi bastardi Sì Così possiamo uscire Sembra che c'è il vuoto Infatti c'è il vuoto qui Intanto che Salve il pollo Pollo kamikaze E' stato un tipo Dottimo Ciao Pol Ciao Pol E ma che p***o Ciao Pol E ma E ma che p***o Bene 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 Eeeh 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 Meno male Meno male Oddio mio Eeeh cos'è questo party Pollo party Eeeh 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 Party in acqua come schiuma Che cosa è qui? Con un schiuma Eeeh Eeeh Si, è rientrato, bravo Poveri culo Eh, c'è il grano, c'è il grano Mi toglialo Ma voglio chiuderli C'è il grano Togli il grano, no? Ma no, ma volevo solo chiuderli Guarda Si Non è che posso impassare Ok, direi che Per questo episodio Che questo episodio può concludersi qua, quindi se vi è piaciuto lasciate un commento Mettete un piace Iscrivetevi e nel prossimo episodio andremo ad esplorare un altro Baratto Quindi Baratto ragazzi Tuttavia Sono semi arresti, proprio qui e adesso Se è ciò che serve lo farò Mi scuso Ma non c'è la tua altra scelta Tutti i wizard Attaccateli Hm Chi è quello? Stato rosso il down superi dei mini costantiti Annullamento missione Che cavolo Chi è quel coso? Cos'è quel coso? Quello è davvero un wizard Quello è davvero un wizard Posso dirtelo Quello non è un common wizard E' differente dalle Taurus Acid O strong Inoltre E' davvero potente Non è un concetto Pocai E' davvero potente